Buongiorno, l'editore mi ha chiesto un video di 3-4 minuti da mettere nel sito, dopo lo pubblicherò anche su YouTube. Sono appena uscita dalla chiesa di Sant'Agnese e stamattina a scuola entro più tardi, quindi stavo pensando di andare a Piazza Grande a Montepulciano per girare questo video, dove parlo appunto del libro che è stato pubblicato, Cantico degli amanti, dalla parte del marito. Questa è una veduta di Montepulciano, non so se potete... ecco, stamattina ci sono 5 gradi, fa freddo. Le campane? Fa freddo. Avevo messo il cappuccio perché effettivamente veramente fa freddo. Queste campane riempiono di gioia. E' una bella giornata, ma è freddo, molto freddo. Vi faccio vedere. La Val di Chiano. La Porta della Città. Il video deve essere breve, massimo 3 minuti, quindi non posso farvi vedere molto. Il libro si chiama Cantico degli amanti, dalla parte del marito. Sostanzialmente è una rilettura del Cantico dei Cantici e poi ci sono varie sezioni intervallate da poesie da poesie di Mareluzzi e da altri poeti, turchi, arabi. Non voglio dire tanto. Diremo tanto dopo che l'avrete letto. La città? La città? Che Benim. La città?